Stagione molto positiva, finalmente abbiamo avuto la prova che gli investimenti fatti sono andati nella giusta direzione, solo il Monte Catria a 15.000 primi passaggi e senza considerare poi tutte le altre stazioni a noi vicine. Con le quali, Michelo Radeci tiene a sottolineare, il Catria non è in concorrenza ma è in collaborazione. Certo, fortunatamente le stazioni delle Marche non sono in concorrenza tra loro perché abbiamo un polo del Pesarese e un polo del Maceratese, quindi noi attingiamo dalla Rimini di Romagna, dalla provincia di Perugia, dall'Umbria e loro invece attingono più che altro dal sud. La fine stagione è sempre un momento per tirare le fila, per ragionare e soprattutto per definire un po' programmi di sviluppo. Sì, i programmi sono stati importantissimi, gli investimenti sono andati nella direzione giusta, come dicevo prima, è importante farne degli altri perché questo è stato un primo step, siamo passati da un turismo giornaliero, da un turismo pendolare a un turismo dei due o tre giorni, quindi la gente ha dormito nei nostri territori, cosa importantissima, per due o tre giorni abbiamo riempito bed and breakfast, ristoranti, alberghi, non avevamo più posto, la gente ha dormito fino a Fossombrone, nel nostro caso, Cagli, Cantiano, Pergola, Frontone. Dobbiamo passare appunto da un turismo adesso dei due o tre giorni a un turismo che è un'offerta che vada su tutti i mesi dell'anno, quindi il prossimo passaggio è prolungare i due o tre mesi, quindi l'inverno e luglio-agosto, in una stagione più lunga per 365 giorni all'anno. Per quanto possa sembrare strano affermarlo, di conseguenza la montagna non è più un posto solo per gli appassionati di montagna, ma è un volano per la vita di tutti quelli che vivono nel territorio. Certo, perché chiaramente, diciamo, andando in questa direzione, cosa succede? Succede che le aree interne vivono, cioè i nostri ragazzi non sono costretti ad andare via, cioè possono pensare di fare un'attività e sviluppare la loro vita lavorativa nei territori dove sono nati, e questo non è poco, chiaramente. Per far questo, però, a questi ragazzi bisogna dargli delle certezze, e le certezze ci si arriva solo facendo dei grandi investimenti, come è stato fatto fino adesso, e continuare a farli, e soprattutto fare in modo che questi ragazzi abbiano la possibilità di siano sostenuti nelle loro iniziative, nelle loro attività. Oggi è il momento giusto, perché ci sono i finanziamenti che tramite l'Unione Europea passano la regione, arrivano ai GAL, gruppo di azioni locale, e i giovani possono avere i contributi, quindi pensiamo che attività possono essere finanziate anche al 50-60%, le nuove attività dei nuovi giovani con il PNRR, quindi questa è una grande opportunità. Quindi dico ai giovani, iniziate a sognare di fare la vostra vita lavorativa nei posti dove siete nati, che sono bellissimi. A fine marzo si chiude la stagione, ma il Catria non chiude mai? No, il Catria, come anche le altre montagne, in particolar modo noi, noi siamo una delle poche montagne aperte tutto l'anno, quindi a parte adesso che abbiamo preso 15 giorni di riposo dopo la stagione invernale, da Pasqua ripartiamo, e con il Kinderland Adventure Park, il Parco Aventura, tutti i sentieri che noi abbiamo, bellissimi d'estate, l'equitazione, quindi c'è di tutto.